Un sindaco deve girare la città, non deve limitarsi a tagliare nastri, a fare le passerelle elettorali come ha fatto Melucci e come sta facendo Melucci, come sta facendo Musillo. Gente che non ha mai girato la città e ora ricompare all'improvviso così per conquistarsi la fiducia dei cittadini. Bisogna dare voce a chi non ha voce e penso alla categoria dei diversamente abili. Sono cambiati i termini, prima venivano chiamati handicappati, erano considerati un peso, poi si è passati all'espressione disabili, poi l'espressione diversamente abili. Ma la sostanza è sempre questa, i loro diritti vengono negati. E voglio precisare che nessuno può dirmi che sto speculando, perché ho avuto mia mamma colpita da ictus cerebrale, invalida per 27 anni. Ho perso mio padre di tumore, gli ultimi tempi, gli ultimi mesi era ridotto su una sedia a rotelle, so cosa significa. Quindi nessuno può dirmi che io voglio speculare. Poi in 21 anni di attività giornalistica ho fatto tantissimi servizi, proprio per difendere i disabili. Per questo io chiedo il consenso a voi elettori e a voi diversamente abili. E qui a Talzano ho una signora e mi ha colpito la sua forza, la sua energia. Vive da sola, però vive le difficoltà nel muoversi in città. Con un braccio pure. Con un braccio. Faccio tutto. Il signore mi aiuta. Certo. E ho pure il figlio di mio fratello, peggio di me. Ecco, signora, però a questo punto lei cammina per la città e ci sono tanti ostacoli. Sì, come no? A nessuna parte c'è qualche scivolo, se no si mettono pure le macchine davanti. Poi ovviamente gli scivoli sono pochissimi. Poco, sì, sì, sì. È vero, è vero. Purtroppo speriamo. Queste strade, queste giuste, sono tutte rotte. Immagino cosa significa camminare per le strade con la carrozzella. Non posso uscire, quando piove specialmente, perché acqua a tutte le parti che non se ne va. Speriamo. Ecco, la signora, la cosa bella è che è autonoma, pur con le sue, diciamo, problematiche. Sì, 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 sì. È vero. Ma io non me ne creo per me, per il figlio di mio fratello. Ecco, vedete, è bello ascoltare la voce di queste persone, ma soprattutto la carica, l'energia che hanno. E pensate un po', se diventassi sindaco, come potrei tradire questa fiducia che la gente ripone in te? Come potrei tradire le aspettative di una persona che vuole vivere una vita normale? Penso che nel 2022 anche i disabili abbiano i loro diritti, no? Come no? È vero, è vero. Ognuno ha i problemi loro. Non mi possono aiutare sempre a me. C'hanno tutta la famiglia. E quindi ci si ritrova soli? No, anche mio fratello, che non vi posso dire, perché c'è il figlio. Situazione. Peggio di me. Ecco, brava. Signora, io, che dire... Speriamo, speriamo che fanno qualche cosa. Io, signora, ce la sto mettendo tutta e voglio fare, voglio dar vita ad una città completamente diversa. Un sindaco di strada, ecco, voglio essere un sindaco di strada con la gente. Brava, è vero, così ci vuole. Perché, ripeto, se io tradissi un disabile, tradirei la memoria di mio padre e di mia madre. E questo non voglio assolutamente farlo. Prego. Ecco, abbiamo la nostra Rossella Coppola. Buongiorno a tutti. La cosa importante da dire è che questi scivoli sono sempre occupati dalle macchine. Quindi, anche quel poco, praticamente, che abbiamo, non ci sono le istituzioni... I controlli della Polizia Municipale. Perché, appunto, debbano fare queste multe a queste persone? E, d'altra parte, un disabile come la signora, ce ne sono tanti purtroppo, non riescono neanche a fare, nonostante che la signora sia una persona molto autonoma, le cose essenziali per poter andare a fare la spesa, per poter essere autonoma, affinché non dia altro peso ai parenti propri. Quindi, ritengo che è una cosa giusta pensare, in particolare, alla disabilità.